buongiorno a tutti e in questo video oggi vi mostrerò un passo passo per realizzare delle piccole converse in pasta di zucchero questo progetto base si possono realizzare tante altre possibili evoluzioni vi ricordo di iscrivervi al mio canale per rimanere sempre aggiornati ricordo di iscrivervi al nostro canale Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.